Importanti novità per la città di Nettuno, tutte orientate alla promozione delle attività imprenditoriali, sono giunte in seguito alla recente Commissione Bilancio. Si va tra le più importanti verso la diminuzione della pressione fiscale per le attività commerciali in relazione al canone di occupazione del suolo pubblico. Fra le diverse misure coinvolte dalle modifiche vi sono in particolare la riduzione degli importi, la semplificazione degli iter burocratici, i criteri per l'occupazione permanente e temporanea e il parametro di maggiorazione legato alle festività. Modifiche che hanno diversi obiettivi, in primo luogo contribuire al supporto delle attività imprenditoriali e in secondo luogo sostenere e promuovere l'accoglienza di turisti e cittadini anche nella fruizione degli ambienti esterni ai locali, andando così incontro anche alle richieste presentate in questa direzione dai commercianti. Il nuovo regolamento permette infatti tra gli altri di poter richiedere l'occupazione permanente per la posa di tavoli e sedie, pagando un canone più basso rispetto a quello previsto per le occupazioni temporanee, possibilità questa che è stata finora negata. Prevede una durata annuale delle concessioni, rinnovabili automaticamente, salvo disdetta da una delle due parti nei 60 giorni precedenti la scadenza. Riduce il coefficiente di moltiplicazione delle aree ubicate all'interno del borgo medievale dall'attuale 400% al 250%, in modo da rendere il canone proporzionato alle somme pagate dai concessionari in altre parti della città. Ed infine elimina il parametro di maggiorazione legato alle festività nel calcolo del canone per l'occupazione temporanea. Tutte le modifiche si trasformano pertanto in una riduzione, a volte anche sostanziosa, del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, hanno spiegato il sindaco Angelo Casto e il dirigente d'area Luigi da Prano. Confidiamo che questa operazione porterà alla riorganizzazione dell'utilizzo degli spazi pubblici per il raggiungimento di un duplice obiettivo, incentivare la ricettività turistica della città e rispettare pienamente l'ordine e il decoro urbano.